La classificazione del DPCM che sancisce la nostra con una regione gialla e quindi con un contagio tra i più bassi in Italia è sicuramente un elemento positivo, ma questo non deve assolutamente farci rilassare perché l'obiettivo, il nostro obiettivo, la sicurezza dei cittadini, la tutela della salute, delle fasce più deboli è sicuramente una primaria occupazione e preoccupazione della Giunta regionale e del Governo della nostra regione. Insieme a questo sicuramente va contemplato l'attenzione rispetto alle attività economiche e rispetto anche alle preoccupazioni che deve portarci ad affrontare le tantissime e numerose restrizioni che condizionano la libertà singola di tante attività economiche e che rischiano di creare dei grossi problemi. Per questo l'auspicio è di concentrarci alla lotta tra il coronavirus per far sì che il quadro attuale venga superato velocemente in maniera repentina per restituire quelle libertà anche di impresa, anche economiche che sicuramente sono fondamentali per la tenuta sociale e per la salvaguardia anche delle occupazioni.